Buongiorno a tutti, mi trovavo in villeggiatura, come potete vedere, a Neumarkt, nell'Astiria austriaca. Quando è arrivata la notizia di Hakimi, l'Inter, notizia devastante, fomentante, una trifolazione di mercato, così tra capo e collo, complimenti. Sarebbe un ottimo colpo, colpo che mi sorprende perché la forza del giocatore è tale che a mio avviso anche Real Madrid poteva appuntarci direttamente per la prossima stagione. Se la cifra di 40 milioni è veritiera, è un costo assolutamente giusto, razionale, un ottimo blitz di mercato, di fomento. Mi piace, mi piace quel giocatore a tutta fascia che Conte può aver richiesto, un esterno destro di grande valore, che può essere il Teo Hernandez dell'Inter dell'anno prossimo. Complimenti, un signor giocatore che sarò curioso di vedere in azione in Serie A. Alla prossima.